Se ancora gli operatori balneari attendono certezze su regole e date, anche i titolari di piscine sono sulla stessa barca. Di sicuro sarà necessario garantire le distanze, meno lettini e pochi ombrelloni. L'ultimo decreto, quello della fase 2, ha penalizzato infatti palestre, piscine e centri sportivi, che con grande rammarico per gli amanti dell'attività fisica rimarranno chiusi ancora per un po'. Qualche passo in avanti però si sta facendo. Il ministro per le politiche giovanili e lo sport ha dichiarato che si sta lavorando per riaprirli dal prossimo 18 maggio. Sì, abbiamo iniziato, adesso svuotiamo, puliamo, disinfettiamo e aspettiamo una gazzetta ufficiale di come ci dobbiamo muovere, per quanti posti dovremo mettere, quanti ombrelloni saranno messi e quant'altro. Quanti erano all'incirca gli ombrelloni lo scorso anno? Lo scorso anno erano 30-32 ombrelloni, più questa zona qua dietro alle vostre spalle che è questa sorta di gazebo. E se dovessi rispettare le distanze richieste al momento? La metà, la metà esatta, perché gli ombrelloni erano a circa due metri, due metri e mezzo l'uno, se è vero quello che dicono che la distanza sarà di 4 metri, se non 5 ho sentito anche, quindi la metà degli ombrelloni e la metà dei lettini ovviamente. Prevedete di aumentare le tariffe? No, non vogliamo aumentare le tariffe perché non ci sembra giusto far pagare i nostri clienti per quello che sta succedendo a livello mondiale e quindi no, lasceremo così. Valuteremo il caso, se proprio aprire, che tipologia di orari fare, perché comunque quest'anno sarà un anno molto diverso, se l'anno scorso facevamo merende con compleanno di bambini, aperi cene, feste di Laura, quest'anno penso che non ci si possono raggruppare le persone quindi il bacino di utenza sarà dimezzato, anzi anche proprio triplicato in meno, quindi sarà un danno enorme, ma cosa vogliamo fare? Intanto il Ministero della Salute, che ogni settimana smentisce le bufale, ha ribadito che i bagni in piscina non espongono l'infezione dal nuovo coronavirus, non ci sono prove infatti che il Covid si diffonde in questo modo, come è precisato poi dall'Istituto Superiore di Sanità, il corretto funzionamento, la manutenzione e un'adeguata disinfezione ad esempio con cloro o bromo di piscine e vasche idromassaggio assicurano l'inattivazione del virus. Abbiamo anche un ristorante, stiamo procedendo anche lì e quindi stiamo togliendo tavoli, stiamo togliendo seggiole, stiamo cercando di riaprire come la norma dice, anche se io sono completamente contrario a quello che la norma dice, però io sono uno e posso far poco. Avete tanto terreno a disposizione, che cosa ne pensa dei condimenti monouso? Scusa ma mi viene da ridere, guardietti attorno, abbiamo 500 olivi e faremo la raccolta di olive, la metteremo direttamente a tavola, se la spremeranno, cosa vogliamo fare? Sì, si cerca di fare il possibile, poi dopo manderemo i danni per questa stagione o vediamo dove li mandiamo, in Regione, a Roma, in Comune no perché in Comune non c'entra nulla e poi cosa dire, è una situazione surreale questa quindi c'è poco da aggiungere.